Un'emergenza. Uno squalo nella senna. È incinta anche se non è sessualmente matura. E non ha bisogno di un maschio. Si sono adattati. Sono decine, presto saranno centinaia. Il triathlon parte tra meno di 24 ore. Sarà un massacro. È in piano. Servono esperti. E ora dichiaro il triathlon della senna aperto. Vieni subito fuori. Il nido deve essere qui, sotto le catacombe. Se non li eliminiamo, continueranno a riprodursi, a colonizzare gli oceani all'infinito. Il nido deve essere qui suopero. Il nido deve essere qui, sotto i lì. Sì, più nulla è delкамenne all'infinito.